Ecco, sono qui col filosofo Meli Lanfranco e stiamo facendo la camminata filosofica. Lo sai che Meli oggi mi hanno pubblicato le mie mutande da uomo e mi censurano il video. Fai vedere il libro che hai in mano? Ecco, il libro è Il magico potere della mente dove c'è scritto che l'abitudine è quella che guida l'uomo. Ecco, questa è una passeggiata filosofica con un filosofo alto. Colui che ha fatto due libri che non hanno avuto nessun successo perché i libri di nicchia non vengano letti. E mi vuoi dire il titolo dei tuoi due libri, Meli? Allora, il primo è Il genio in visita al paese degli animali del cortile. L'animale del cortile è l'uomo. Il secondo è Gesùa, l'uomo, che è il Vangelo romanzato. Bello, grande. E mi vuoi dire che me l'hai già detto, io lo so, ma dillo ai miei amici. Perché ti hanno censurato e anzi, no, copiato il Vangelo? A chi l'hai mandato? Dimmi a chi l'hai mandato. Io l'avevo mandato a Corrado Augas due anni fa per la presentazione nel suo programma su Rai 3. Augas non l'ha mai presentato e a ottobre dell'anno scorso è uscito con un suo libro dal titolo La grande storia romanzata dei Vangeli. Questo la dice Lunga. Allora, se uno fa una cosa nuova, no, e chiaramente la divulga, deve stare attento a chi la divulga. Perché se va nelle mani sbagliate, poi è chiaro che Augas vende 10.000 libri, mentre Melli è andato fallito, si è andato nel fantoio. Ecco, questa è l'idea. Oggi è il 227esimo giro di rotazione, buona passeggiata filosofica a tutti. Vista lago, che lago è questo? Pusiano. Lago di Pusiano. Lago di Pusiano. Il primo giro di rotazione a tutti.